Sinner vince e bacia Anna Kalinskaya per la prima volta in pubblico. Yannick Sinner ha vinto gli US Open a soli 23 anni, conquistando il suo secondo slam della stagione. Yannick Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano conquistando, a soli 23 anni, gli US Open, il suo secondo slam della stagione dopo gli Australian Open. Ma oltre ai successi sportivi, è la sua vita privata che ha catturato l'attenzione dei media. Alla fine della partita, tra applausi e l'emozione del pubblico, Sinner si è lasciato andare a un gesto romantico che ha fatto il giro del mondo. Il tenero bacio con Anna Kalinskaya, sua fidanzata e tennista russa, sigillando la loro relazione in modo pubblico per la prima volta. Sinner e Anna Kalinskaya protagonisti di un momento speciale. Dopo aver battuto Taylor Frets in finale e conquistato il suo secondo slam del 2024, Yannick Sinner ha alzato le braccia al cielo, assaporando ogni istante della vittoria. Ma è stato uno sguardo verso la tribuna, dove Anna Kalinskaya lo aspettava, a svelare un momento ancora più dolce. Tra l'emozione e la commozione, la tennista russa è corsa ad abbracciarlo. E proprio mentre lui, visibilmente imbarazzato, cercava di trattenere l'emozione, Anna lo ha sorpreso con un tenero bacio. Un gesto spontaneo che ha conquistato i cuori di tutti. Quel bacio, il primo scambiato in pubblico tra i due, ha segnato una tappa importante non solo per la loro relazione ma anche per la percezione del grande pubblico. La coppia, infatti, aveva sempre mantenuto un profilo riservato, evitando manifestazioni pubbliche di affetto, fino a quel momento. Sinner, noto per la sua riservatezza e timidezza, si è lasciato andare, visibilmente colpito dall'affetto e dalla vicinanza della sua fidanzata. Il bacio tra Sinner e Anna Kalinskaya ha subito fatto il giro del mondo, immortalato dai fotografi presenti e diffuso sui social, dove i fan della coppia non hanno tardato a commentare con entusiasmo. Sinner e Anna Kalinskaya, una coppia solida nonostante le polemiche. Il bacio tra Sinner e Anna Kalinskaya non è solo un gesto d'amore, ma anche una risposta silenziosa a tutte le critiche e le polemiche che hanno circondato la loro relazione negli ultimi mesi. Da quando la loro storia è diventata pubblica, in occasione del WoW and Chaos, molti si sono chiesti quanto la vicinanza di Anna potesse influenzare le prestazioni del giovane campione. Alcuni commentatori, addirittura, hanno insinuato che la sua presenza fosse causa di distrazioni per Sinner, soprattutto dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon. Nonostante queste voci, la coppia ha dimostrato di essere più forte che mai. Anna Kalinskaya ha sempre supportato gli anni che nei momenti più difficili, come quando l'atleta si è trovato ad affrontare l'inchiesta per doping che ha rischiato di compromettere la sua carriera. Durante quei giorni di incertezza, la vicinanza di Anna è stata fondamentale per il tennista altoatesino. E il bacio durante gli US Open è sembrato un modo per ringraziarla pubblicamente di tutto il supporto ricevuto. Un amore sotto i riflettori Sinner e Anna tra sport e vita privata Sinner e Anna Kalinskaya formano una delle coppie più seguite nel mondo del tennis internazionale. La loro relazione, ufficializzata con le foto durante un pranzo a Parigi, ha continuato a suscitare curiosità tra fan e media. Tuttavia, entrambi hanno sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la loro vita privata e le carriere professionali, concentrandosi sui rispettivi obiettivi sportivi. La vittoria agli US Open rappresenta per Jane Xenner il culmine di un anno straordinario, coronato da successi e conferme. E Anna Kalinskaya è sempre stata al suo fianco, accompagnandolo in ogni sfida, sia in campo che fuori. Il bacio scambiato a fine partita non è solo la celebrazione di una vittoria sportiva, ma anche un simbolo della solidità e della complicità che unisce la coppia. Nonostante le critiche di personaggi come Nicholas Curious, che in passato aveva provocato Sinner utilizzando riferimenti a Kalinskaya, la coppia ha saputo ignorare le polemiche, rimanendo unita e concentrata sui propri obiettivi. Il bacio agli US Open ha messo a tacere definitivamente ogni dubbio sulla loro relazione, dimostrando che il legame tra i due è più forte delle parole e delle speculazioni esterne. Metti un like e attiva la campanella.